La decisione della Regione Toscana di far vaccinare contro la meningite di tipo C anche gli over 45 e l'arrivo di oltre 350.000 dosi di siero in tutte le asle toscane ha fatto scattare una vera e propria caccia al vaccino contro il meningococco. E in Valdano Aretino è già caos per chi vuole prenotare l'appuntamento per la vaccinazione. Molte le segnalazioni di disservizi e proteste da parte dei cittadini che si sono rivolti alla nostra redazione per sollecitare una soluzione al problema. Diversi nodi da sciogliere per il Dipartimento della Prevenzione della ASL 8. Il primo riguarda la fascia oraria e il numero di telefono messo a disposizione dall'azienda sanitaria valdarnese per prenotare la dose. Lo 055 910 6353 pubblicizzato anche dai media locali. Il numero, fanno sapere i cittadini, è per rendimento occupato anche perché la fascia oraria durante la quale è possibile contattare è risicata dalle 13.30 alle 14.30 da lunedì al venerdì. È facile intuire che in appena un'ora di ricezione è praticamente impossibile prendere la linea che risulta automaticamente intasata. E così gli utenti sono costretti a stare tutto il tempo al telefono con il risultato di non riuscire a parlare con l'operatore. Questo accade sia per chi può vaccinarsi gratuitamente in base alle disposizioni regionali, sia per chi, non rientrando nella fascia di età prevista, vuole comunque vaccinarsi. L'irritazione dei cittadini arriva all'ennesima potenza, soprattutto quando i protagonisti del disservizio sono gli utenti che vogliono vaccinarsi anche pagando, ma hanno il proprio medico di famiglia che non ha aderito alla campagna di vaccinazione. In questo caso l'unica chance per potersi vaccinare resta la struttura pubblica della prevenzione, che purtroppo trovano matematicamente interdetta a causa delle linee sempre intasate, nell'unica ora giornaliera a disposizione. Da parte sua la ASL 8 del Valdarno, interpellata sull'argomento, fa sapere che se un utente trova la linea occupata e non riesce a prenotare attraverso il numero 055-910-6353, già dai prossimi giorni potrà invece rivolgersi al numero fisso verde del CUPTEL 800-575-575. E se anche in questo caso l'incubo diventasse odissea, allora può andare direttamente al Dipartimento della Prevenzione del monoblocco della gruccia, situato sul lato destro della struttura, opposto a quello del CUPTEL. Qui sarà possibile prendere contatto personalmente con gli operatori sanitari e finalmente prenotare la sospirata vaccinazione.